Il calcio è una sconfitta amara e immeritata per quanto fatto vedere sul campo della formazione Umbra. Il calcio però nel bene e nel male ti dà sempre la possibilità di rimetterti in gioco dopo pochi giorni e sarà così domenica prossima quando all'Arena arriverà l'Ascoli per una gara che potrà permettere alla Pisa di riprendere il cammino. Un cammino che la carovana nerazzura come viene definita da mister Pagliari ha una gran voglia di riprendere per mantenersi nei piani alti di una classifica tanto mai corta ed equilibrata. Arriva a Pisa un Ascoli in difficoltà che di recente, anzi proprio ieri, ha cambiato allenatore. Sulla panchina siderà l'ex nerazzurro Bruno Giordano. Tanti problemi ma nessun obiettivo concreto quindi niente da perdere. Quindi avversario da prendere con le molle. I nerazzurri intanto hanno ripreso come detto a prepararsi senza Francesco Forte che è in rappresentativa Lega Pro a Coverciano e rientrerà mercoledì sera in città. Con roggio e martella alle prese con le terapie specifiche per risolvere i loro problemi fisici e con speranza ancora indisponibile. Per il resto tutti a lavoro agli ordini di mister Pagliari, il mister in seconda Maurizio Tacchi e il professor Enzo Vagnini. Domani mercoledì doppia seduta, giovedì pomeriggio il test con la Berretti e venerdì mattina l'ultima seduta a San Piero prima della rifinitura sabato mattina all'Arena. Grazie a tutti.